Cari amici e carminci, benvenuti in questo video del 31 marzo 2024, giorno di Pasqua. Auguri a tutti voi per una buona Pasqua. Auguri anche ai nuovi iscritti Luca Alessandroni e Matteo Maravalle Alessandroni, che si sono iscritti da poco. Buona Pasqua a tutti e benvenuti. Il video di oggi riguarda tre video che vi voglio segnalare e li ho messi in ordine decrescente, cioè dal più importante al meno importante come contenuti, cioè dal più serio a quello più comico. Sono tre video che hanno avuto soprattutto il primo, che vi faccio tra poco vi introduco, poi vi lascio i link in descrizione e andrete a vedere, perché chiaramente sono video lunghi, non posso doppiarli tutti, non posso riprodurli tutti. Mi limiterò quindi a riassumerli e a segnalarvi alcune peculiarità di tutti questi tre video. Il primo video è stato pubblicato da un canale che si occupa di aeronautica. ha avuto un buon impatto, devo dire, sugli iscritti a questo canale, perché ha totalizzato un numero, adesso ve lo dico, di ben 635 commenti nel poco tempo dal quale è stato pubblicato. È un canale con 24.900 iscritti e c'è stato parecchio, parecchio scontro, perché è stato intervistato nell'ambito dei servizi che il canale realizza e propone i suoi iscritti. Questa volta è stato intervistato il generale tricarico che nel suo primo video ha parlato dell'argomento di cui ho tratto su questo canale, cioè della strage di Ustica. ha creato un po' un putiferio, perché c'è stato un forte contrasto di opinioni tra chi era perfettamente d'accordo con quanto diceva il generale, chi si lamentava nei confronti del canale Ronin Production, Ronin Film Production, perché secondo loro questo era un video che non andava fatto e all'interno di queste discussioni c'era chiaramente chi ritiene che in generale abbia detto, diciamo, delle sciocchezze, perché convinti da anni e anni di pressione mediatica che quello che è accaduto a Ustica sia da far risalire al duello aereo e al missile. E queste sono le leitmotiv, le teorie che hanno preso piede da parecchio tempo. Che come sapete qui possiamo vedere in basso alcuni dei commenti. Eccolo qua, giriamo un attimino la camera, qui c'è anche il mio commento chiaramente dove io sostengo che il canale ha fatto benissimo a pubblicare questo video, perché è uno dei più importanti che può aver mai pubblicato, ma c'è stato uno scontro veramente epico tra chi sosteneva il missile e chi cercava di spiegare, di far capire, di far ragionare queste persone sull'illogicità nella quale loro credono. Sto parlando senza aver preparato prima un testo, per cui spero di non ripetermi e avere una scorrevolezza nell'esposizione. Quindi per esempio vediamo qua sotto, scusatemi questo video è inguardabile, poi quello sopra ho chiuso quando ho sentito dire che subito dopo l'incidente l'aeronautica avrebbe consegnato tutti i dati. Ecco, questi sono esempi di, ecco, vediamo quest'altro ancora, questo video è totalmente fuori luogo per il taglio del canale. Mi dispiace averlo dire e criticare, ma un progetto così ben tagliato non ha o non dovrebbe essere accostato a video primariamente con scopi politici o di interessi di categoria o personali. Ecco, anche questo è un esempio di grande lavatura, o chiamiamoli così di lavatura di cervello, in realtà queste persone hanno semplicemente creduto a quello che per anni hanno letto sui giornali. non sanno la maggior parte dei risultati del procedimento penale e si limitano semplicemente a riferirsi a quello che hanno trovato sul punto scritto dai giornali, in particolare da purgatori, o su wikipedia, che comunque anche quella è stata scritta all'80% da purgatori, poi c'è un'altra parte che è stata scritta da Daria Bonfietti, quindi praticamente abbiamo un unico pastone. Ecco, quindi vi invito a chi non l'avesse visto, che non conoscesse questo video, ad ascoltarlo, andare a sentirlo, e passiamo poi al secondo video, questo è molto più interessante, perché qua il canale è quello di Gabriele Paradisi, si chiama Conto Disinformazione, Gabriele Paradisi è andato a Bologna, lui di Bologna, il 20 febbraio c'è stato un convegno in cui venivano presentati due libri, due saggi riferiti alla vicenda di Ustica, saggi scritti dagli storici, scritti da insegnanti, da professori universitari ordinari, erano presenti, dunque saggi sono 1980 l'anno di Ustica, e Ustica è gli anni 80, erano presenti gli autori, Bruna Bagnato, che è professore di storia, professoressa di storia all'Università di Firenze, poi c'era l'altro autore Maurizio Ridolfi, professore di storia all'Università della Tuscia di Viterbo, storia contemporanea intendo, poi c'era un altro storico, un ordinario professore all'Università di Bologna, Mirko Dondi, e c'era il coordinatore Giorgio Tonelli, giornalista della RAI, ovviamente c'era, come potete vedere, la signora Bonfietti, che sappiamo che con la RAI ha un ottimo rapporto di collaborazione, e curatore di tutto è questo signore che vedete baffuto, con questa pittoresca barba, Luca Alessandrini si chiama, professore, è stato direttore dell'Istituto Parri per 28 anni, poi è stato per 19 anni direttore del Museo della Resistenza a Bologna, ed è dal 2016 ad oggi Presidente dell'Associazione Salviamo la Costituzione. Questo video io lo colloco a metà, cioè diciamo è la pripista, è quello che apre, poi per l'introduzione al video successivo, perché in questo video diciamo le cazzate sono dette da autorevoli professori universitari, e c'è per esempio Ridolfi che nel suo intervento, lui ancora si riferisce alla, lui la chiama la sentenza di priore, quando in realtà è un'ordinanza. E poi per riassumere, anche questo video chiaramente lo dovrete vedere, qua potete già leggere intanto la parte sottotitolata, c'è poi anche il professor Mirko Dondi che ci dice, tra le altre cose, tesi smentita della bomba a bordo, e poi dice, testuale, l'inchiesta di priore mette in evidenza l'abbattimento dell'aereo a causa del missile, e ci mette in evidenza che su quel cielo c'era una guerra, in quel cielo c'era una guerra, questo è assolutamente, udite udite, indubitabile. C'è da dire che il priore non ha mai parlato di missile, questo ne ha parlato Furgatori di missile, e ne ha parlato Cossiga, in ultimo Amato rifacendosi a Cossiga. Come avevo già detto, Furgatori mette la bandierina americana al missile, quindi va in America a intervistare, nel Texas a intervistare questo Brian Sandling, mentre Cossiga dice che sono stati i francesi, che l'aereo ha sobalzato e è partito il missile per sbaglio, questo lo dice in televisione, poi in realtà quando è stato convocato dai giudici, dai magistrati, ha detto tutto l'opposto, cioè ha smentito come del resto, ha smentito anche Amato. L'interessante è che Dondi, tra le varie cose, dice che critica l'ipotesi che aveva formulato Zamberletti in questo libro, Ustica e Bologna, un filo fra due stragi, dove appunto Zamberletti collega la strage di Ustica alla strage di Bologna. Poi, due parole, merita anche Ridolfi, dove dice un risultato ormai rotondo, assimilato, acquisito, quello del magistrato priore, su cui ormai noi costruiamo il nostro modo di leggere quella vicenda. Per cui anche questo, Ridolfi, che come vi dicevo prima, è l'autore, professore di storia contemporanea all'Università di Viterbo, alla tuscia di Viterbo, che ci dice quello del magistrato priore, un risultato ormai rotondo, assimilato, acquisito. E questo signore, questo professore, questa cosa la dice poi in aula. Quindi voi provate a immaginare quanta gente viene contagiata da questo morbo. Ma poi abbiamo la chicca. La chicca finale è quest'altro video. Poi ho altra cosa da dirvi, quindi c'è Pasqua, è piena di sorprese. Poi ho quest'altro video che si intitola So chi è l'autore della strage di Ustica. Questo è un video realizzato da un youtuber, si chiama Alessandro Cavazza, ha un buon numero di iscritti, devo dire, ha una minima quantità, diciamo che sono 39 i commenti che ha totalizzato questo video, ha un buon numero di visualizzazioni, circa 1000, vediamo che andiamo a vederle, non mi ricordo più, a circa 2500 e più, 2538 visualizzazioni, per cui è anche questo un video interessante, dai contenuti però assolutamente, diciamo, risibili, poiché se voi avete voglia di sentirlo, è un po' andare a rifescare dal cilindro, dal vecchio cappello, tutta una serie di teorie improbabili, indimostrabili. L'autore di questo video, lui, parla, sosteneva la collisione in volo, sostiene che un MIG o anche due MIG siano partiti da una base imprecisata del nord del Baresotto, quindi a Rese ci sono, ovviamente ci sono, nella provincia di Baresa abbiamo l'aeroporto di Malpensa, di Venegono e di Vergiate, quindi e poi ci abbiamo Malpensa al Terminal 1 e al Terminal 2, in conseguenza questo MIG non può essere che è partito da quelle località. Durante questo video presenta anche il libro scritto da due autori ingegneri aeronautici, erano stati già gli autori del libro La Guerra di Ponza che poi è stato successivamente, mi sembra l'anno scorso, due anni fa, ristampato praticamente perché è quasi identico al precedente, però hanno avuto la buona idea di cambiare il modello dell'aereo e era stato segnalato che gli AF-14 che avevano messo in azione, non avevano fatto partecipare all'azione del seguimento di questo fantomatico MIG che si snascondeva sotto il 19 eccetera eccetera, avevano utilizzato l'F-14 ma qualcuno gli ha fatto rilevare che non era l'F-14 in quel periodo in servizio e quindi hanno molto tranquillamente cambiato l'era e del resto è loro un romanzo storico che si propone di dire la vera storia di quello che è successo a Ustica, tant'è che mettono anche la Saratoga in navigazione quando in realtà la Saratoga era in porto giudice priore nella sua lunga indagine pur avendo preso dei normi granchi procedurali è stato anche attento a molti dettagli e uno di questi è stato andare a verificare la nave la Saratoga dove era se effettivamente era in porto ed effettivamente era in porto come ha fatto semplicemente ha avuto una buona idea è andato ha convocato quattro coppie di sposini che si erano sposati il 27 e il 28 e ha preso le loro fotografie cioè a Napoli ha tradizione di andare a fare le foto in matrimonio in una località ben precisa della quale si vede tutto il golfo e quindi facendo conti misure e vari calcoli con le ombre hanno assolutamente e incontrovertibilmente dimostrato che la Saratoga stava in porto quindi il romanzo storico che mi dice che la nave Saratoga è in navigazione l'istorico non ha molto ma è più interessante che venda coppie questo sicuramente così come del resto c'è chi appunto fa su questa vicenda di Ustica la gallina d'oro e ci sono queste varie uscite ecco per dire poi torneremo un attimino i precedenti video per dire qua i commenti non sono tantissimi ce n'è uno che è Ustica 15 molto interessante bravissimo e forse questo qua risponderò spiegherò che quello che ha visto è tutta fantasia e forse magari è il caso che veda qualche altra cosa di diverso non dico i miei video ma che vado a cercare in altri ambiti le notizie poi qui abbiamo un altro ah tra l'altro è andato fuori fuoco ecco qua tra l'altro l'autore dice che mi conosce benissimo rispondendo a questo qui vedete qua sotto mi prendono anche in giro e lasciamo di fare quindi se non dirlo a Marco Beck un po' suocato fa niente e sotto risponde che mi conosce benissimo quindi oltre che fantasioso è anche un pochettino diciamo così dilantatore o poiché questa persona io non l'ho mai vista né incontrata per cui al massimo vedo qualche suo video mi faccio qualche risata come si è fatto questo signor Giuseppe Pausilli al quale la risposta piccata sono andato troppo lontano la piccata risposta dell'autore dice che ridi e lui mi risponde per il video no vedete qua ecco che va fuoco qui qualcun altro che ragiona perché c'è questo signor Luca Golinelli che dice mi sembra veramente improbabile una partenza dei MIG da Vergiate o Venegono figuriamoci da malpensa e volevo dirvi che l'unico che finora ha dimostrato è filmato un MIG ma veramente un MIG parcheggiato in una località del nord Italia tuttora parcheggiato è sottoscritto ho fatto un video sono anche andato a vederlo ho fatto anche delle foto a questo MIG e finora è l'unico prova certa la porto io e mostro questo MIG MIG 21 no 23 comunque se sentirete il video se avrete se riuscirete a non ridere perché risate che si fanno sentendo il video perché è talmente confuso è diciamo molto molto fantasioso devo dire questo è un pregio perché essere fantasioso è un pregio però andare a raccontare certe fregnacce insomma c'è chi lo fa ed è professore universitario e forse è meglio che i professori universitari si vergognino veramente perché gente che insegnano in università certe cose non le dovrebbe dire e qui invece ne hanno raccontate di tutte e di più tant'è vero che il bravo Gabriele Paradisi si è sentito il dovere di pubblicare un video dove le spiega perché molta gente arriva sente i professori tutti questi titoloni e dice accidenti se lo dicono loro è tutta una fanfaronata che va contro anche un sistema contro un processo contro dei giudici soprattutto contro delle perizie qui non stiamo parlando di fatti dove ci sono stati l'omicidio di 81 persone tra l'altro nel video che vi ho appena commentato poco fa l'introduzione del video fateci caso i morti non sono più 81 quando ecco giusto tanto anche se aumenta le visualizzazioni farete 273 persone che rideranno sicuramente e comunque già subito parte con la prima svarbione parla di 84 ad 85 mi sembra che erano 4 persone in più sicuramente si è confuso con l'equipaggio aggiunto anche quello i morti sono 81 e c'è tutta questa gente che sulla loro pelle ci sta facendo convegni congressi film e via dicendo questo è la strage di utica scusatemi per le suocature ma questa volta il il telefono mi sta dando un po' di problemi quindi carissimi io ho quasi finito ho quasi finito perché nell'uovo di pasqua la sorpresa più grande io ve la devo portare oggi ma per una serie di questioni organizzative farò l'intervista che poi vi proporrò dopo pasqua quindi state attenti perché porterò una nuova testimonianza come sapete ho già raccolto la testimonianza del fratello del comandante Gatti e spero che con la prossima intervista si aggiungono oppure si confermino quello che è già sodato però diciamo che come qua c'è gente che vantando titoli accademici molto importanti ci dice tutto l'opposto di quello che è la verità tecnica magari qualcuno che ci racconta qualche retroscena anche politico potrebbe aiutarci parecchio come il fratello del comandante Gatti vi ricordo che aveva aggiunto un elemento molto interessante nei suoi ricordi lui aveva accennato non accennato riferito di una telefonata che aveva ricevuto probabilmente si può essere confuso lui ha detto che era stato il direttore dell'aeroporto di Bologna ad avvisarlo che alle 4 del mattino lo chiama e ad avvisarlo che era stato dirottato l'aereo di suo fratello era stato dirottato in Libia però successivamente mi hanno fatto presente che molto probabilmente in realtà non si trattava del direttore dell'aeroporto ma di uno del personale dei direttori dei dirigenti o dei piloti di Italia comunque questo è relativo a quello che è importante che c'è stato un discorso riferito al dirottamento che quindi creava tutto un contesto molto molto diverso e anche potrebbe spiegare la presenza dei carabinieri armati a bordo quindi attenzione state attenti nel prossimo penso sarà dopo penso dopo il 10 dovrebbe vediamo quando riusciamo a vederci e porterò sul canale questa nuova intervista speriamo che sia interessante e soprattutto che ci racconti qualcosa dietro le quinte quindi ragazzi ancora una volta godetevi una buona Pasqua mi raccomando guardate i link che vi lascio in descrizione e appuntamento al prossimo video che mi raccomando mi raccomando